buongiorno e ben ritrovati carissimi amici di mistero casa mia dal vostro daniele bossari come potete vedere siamo alla guida io e la troupe tutta ci siamo ci siamo imbattuti in un gap dove le connessioni non erano agebili attualmente stiamo avendo ancora problemi con il nostro fottutissimo gps ma noi non ne modiamo non molliamo la presa siamo sempre sul pezzo stiamo arrivando a vidago dove oggi buzzerà il nostro trittico di puntate ecco provvederemo quanto prima con la produzione in accordo la produzione a scerare scerare sceratone una cartella su google drive per uploadare tutti i video delle puntate precedenti in modo da permettere al pubblico di casa di poterle anche vedere in podcast why not ecco perché no noi siamo moderni e tecnologici e ci aggiorniamo con le tecnologie cose cose e ancora cose per ora e solo per ora è tutto inizieremo questo trittico di puntate a breve speriamo di ecco sono un po pendente speriamo di di divertirvi anche oggi di entusiasmarvi con nuove misteriose avventure e inquietanti e misteri in esclusiva solo per voi pubblico di mistero casa mia a dopo daniele bossari cameraman phone con la troupe tutta saluti